17 anni fa a Busto Arsizio, dove viveva, uccise i due figli di 14 e 17 anni, gli venne riconosciuta la semi-infermità di mente e per il muratore gelese Roberto Guai arrivò la condanna a 20 anni di detenzione, che oggi a 58 anni continua a scontare in carcere. Negli scorsi giorni è arrivata una nuova condanna a sei mesi di reclusione. Questa volta i giudici Lombardi lo hanno riconosciuto colpevole di aver aggredito un altro detenuto, un ergastolano che scontava la pena per un omicidio anche se lo scorso anno si suicidò. Vito Clerico venne più volte colpito e finì in ospedale, era stato appunto condannato all'ergastolo dopo due gradi di giudizio ed era in attesa della decisione della Corte di Cassazione. I fatti si verificarono nella struttura penitenziaria di Busto Arsizio, secondo le contestazioni confermate dai giudici fu proprio l'ex muratore gelese ad aggredirlo, pare dopo una furibonda lite Clerico avrebbe tentato di denunciare alcune condotte di Guaia informando il proprio avvocato. Per i PM della procura di Busto Arsizio il gelese avrebbe insistito per avere approcci sessuali, il compagno di Cella si oppose. A causa delle ferite rimase per diversi giorni in ospedale, i giudici hanno confermato la responsabilità dell'imputato pronunciando la condanna a sei mesi di reclusione. Guaia per i fatti che lo hanno portato in carcere dopo l'omicidio dei due figli, venne appunto condannato a 20 anni di detenzione e continua a scontare la pena.